Un weekend, quello del 2 giugno, caratterizzato da maltempo e fenomeni estremi in diverse parti d'Italia. Dopo i danni e i disagi al nord degli scorsi giorni, le piogge si sono spostate verso il centro e non sono mancati eventi meteo estremi come grandinate, forti temporadi e trombe d'aria. Le zone più colpite, nello scorso weekend, tra la Toscana e l'Emilia Romagna, dove non sono mancati nuovi danni tra esondazioni, allagamenti e frane. La furia del maltempo non ha risparmiato neanche l'aeroporto di Pisa, la cui operatività è stata fortemente influenzata, con voli dirottati su altri scali e dove ci sono stati gravi allagamenti all'interno della galleria commerciale, particolarmente suggestiva e spaventosa al tempo stesso la gigantesca tromba marina che si è verificata a largo di Livorno, documentata da tanti residenti che si trovavano nei pressi della costa di Quercianella. Danni e disagi a causa di allagamenti e frane anche in Emilia Romagna, in particolare nella provincia di Modena. Anche qui, diverse decine gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare la viabilità, mettere in sicurezza le infrastrutture e per aiutare i cittadini in difficoltà. Fenomeni estremi si sono abbattuti nell'escursione anche al sud. Una violentissima grandinata in provincia di Foggia ha anche causato un tamponamento a catena lungo la strada statale 16 nei pressi di Ordona, in direzione di Cerignola. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma si registrano già pesanti danni alle coltivazioni. Intanto, se il maltempo dovrebbe concedere una tregua nei prossimi giorni, con l'arrivo di caldo e sole, al nord si continua a fare la conta dei danni. E a Premariacco, in provincia di Udine, i vigili del fuoco con ogni mezzo continuano a cercare il corpo di Christian, l'unico ancora mancante dopo la tragedia di venerdì scorso. Il ventenne, che si trovava insieme a due amiche lungo il torrente Natisone in piena, era stato travolto dalla furia delle acque. I corpi di Patrizia e Bianca erano stati rinvenuti nella giornata di domenica 2 giugno, e intanto non mancano le polemiche per la mancata allerta piena nel torrente, né i dubbi sull'efficacia dei soccorsi. L'elicottero intervenuto per salvare i tre ragazzi, travolti dall'acqua appena prima di essere salvati, era partito da Venezia, distante quasi 150 chilometri.